Un'auto che sfonda le barriere e la frontiera tra il Marocco e l'enclave spagnola di Melilla non è cosa nuova. I migranti tentano con tutti i mezzi di attraversare quella frontiera a costo anche di gravi rischi, ma l'ultimo episodio, un tentativo bloccato dagli agenti marocchini, si è verificato proprio quando c'era in visita il ministro degli interni spagnolo, Jorge Fernandez-Dies, che ha visitato prima Ceuta e poi Melilla, le due enclave spagnole in terra marocchina. Sui monti intorno alle due enclave attendono, secondo stime delle autorità marocchine, circa 80.000 migranti con il sogno di entrare in Europa. Il ministro ha visitato anche il sovraffollato centro d'accoglienza realizzato per poco più di 450 persone, al momento ne ospita oltre 1.300 che chiedono di essere portate sulla terraferma spagnola. Tra i provvedimenti evocati dal ministro, il prolungamento di una scogliera per rendere più difficili i tentativi di ingresso via mare e il raddoppio da 30 a 60 dagli agenti della Guardia Civil addetti al controllo della frontiera. Grazie. Grazie.